Lion ha una buona notizia, oggi parti per primo Oh, finalmente ti fai perdonare per la volta stessa Eh già, eh già, mi devo far perdonare perché mi hai fatto sentire in colpa Quindi vai, finiti a filare l'ino e mentre parlo un pochettino con Feria d'Anna Allora, ehi Non mi piace quando confabulante Vai dietro, vai Inizia a preparare Va bene Oggi, cattivi Ho sentito No, 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 no Ho sentito Da dove hai sbocato? Chiudi Aspettate Ho super udito Buongiorno, buongiorno Buongiorno Salve Io sono il signor crafting o tebolo Ok E mi hanno detto che c'è un sacco di ignoranza qui Su come si fa ad utilizzare la me stessa crafting o tebolo Ok In particolare hanno dato prova di molta ignoranza e meritano repetitions Ripetizioni, il signorino Steph e la signorina Prekenicche Non è vero Lo so benissimo dal video che avete fatto ieri Bene È colpa tua, io te l'avevo detto Che non dovevamo fare un video del genere È colpa tua Steph Si è vergognosi Allora Io Ci vuole interrogare, vero? Perché io sto per stare Dopo quel video ho studiato tutta la notte dalla vergogna Quindi penso di essere pronto Io per niente Vengo? Ah, me lo dice anche Faccia finta almeno Cerco di essere sincera per evitare un brutto voto Va bene, va bene, va bene Se vuole posso anche piangere Devo venire lì tipo interrogazione? Sì Allora, io metterò uno giueto e voi dovete indovinare come si crafta Ok Guarda l'oggetto e guarda la lavagna Allora Eh Eh, ma questo è semplice Non guardare i compagni Ma devo dire No Vuole suggerire dimensioni Lascia o vuole light and frame? No, lascia Lascia? Sì Allora, lascia si fa con due stick Poi 3D Iron Mass, uno sopra, una sinistra e uno sotto Ti hanno suggerito? No, 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 no Giuralo Gli ho detto che ho studiato tutta la notte dalla vergogna Va bene, allora ti credi bravo Mi stai dicendo questo? Sì, sì, sono pronta a tutto Sì, dimmi questo Eh, vabbè Dimmi questo Eh? Dove stai andando? Stef, ho un'idea E' toppa, Stef Guarda qua Guarda che vergogna Due, prendi Due Due No, no, almeno il primo l'ho detto Non mi può mettere due A me è venuta un'idea Se le do tre pozioni Se ne vai mi lascia in pace Sì Va bene? Certo Una, due e tre Molto Vedi? Il professore è facilmente convincibile Tu non ci hai pensato Hai preso due Eh, vedi, vedi, Stef Grazie, è vero Eh, vabbè Diventa un quattro, dai Facile da recuperare Vi l'ho dato pure a tre Almeno sei Però aspettavi un attimo La sufficiente C'è una che non è stata qualificata qua Ma io non centro niente Io sto solo guardando Beh, lei non ha fatto il video, infatti Quindi è tranquilla Dimmi un po' questo Visto, è appescivoso Aspetti Aspetti Lo sei tu? Forse Davvero? Perché ho parlato? Non lo so Perché non sei zitta? Allora Scusami, eh Allora Ma dimmi te Due di cobblestone a sinistra Due di cobblestone a destra Soprattutto di legno Quindi tre di legno E al centro uno slime Credo di sì Ma perché non lo sa neanche lei? No, è troppo complicato il pistone La più ciccola È una roba incredibile Vabbè Non si vergogna A chiedere cose che non sa neanche lei Senti Io tolgo una pozione No, non puoi Sì, sì, sì Non se la merita Io gliene do una E è già tanto Dai Sì, sì Ha ragione Ha ragione Non può fare il professore Però mi rimangono le due Le tre di sette Sette di voto Sette di voto Dato che le ha dato uno Non posso togliere io Vado? Sì, sì Siamo pronti Ti stiamo aspettando Vada, vada, vada Aiuto Ma che succede? C'è vento? Sì, c'è tantissimo vento Non riesco a fermarmi Dovete aiutarmi a fermarmi Aspetti, aspetti Ci sembra qualcosa di pesante Non è vero Avete una soluzione? Tenga, tenga, tenga Vediamo se funziona Quello è un'ottima idea Quello è un'ottima idea Secondo me dovrebbe fermarlo Sì, sì, sta funzionando Pochino, pochino Ma in realtà sta ancora girando Il vento è troppo forte Dovete fare qualcosa di più veloce È finace Ma è disfuggita? Eh sì Ma dovete secondo me Che alla fine Secondo me vuole raccontare una barzelletta No, no Ma perché? Non so le barzellette Non so, riconosco la voce Sicura che non c'è tipo un colmo del vento Vai andando, vai andando, brava Ecco qua Entrati, la fai ad entrare Aspetta, aspetta Ok Ok, va meglio Va meglio, va meglio Abbiamo risolto? È una tomba Ma però continua a girare Ma non è possibile E infatti Perché comunque un po' di venticello Mi arriva lo stesso da sopra Però se me lo tappi soffo Ti ho messo la lava No, no No, come? Così si ferma? Che pazzo La lava è solida, no? Mezzo solida Secondo me ora è ferma Oddio Credo che sia morta Sto morendo Stai che l'abbiamo uccisa più che altro Non è vero Sei di nuovo qua No, che scafo Non ci posso credere Ma vi sembra che vi chieda aiuto E mi date fuoco E fate tutto questo È un'idea di Lion Non è un'idea nostra Poteva servire Aspettate che provo io Fere Vieni qua Divo Prova con questa Vediamo Vai ci dentro Vediamo se smetti No, ma giro ovunque Non è possibile E io te l'ho detto Che ho un problema Mettiti qui Guarda Qui Dove sono io Ok Perfetto Funzionato Io ho un'altra idea Ho una pozione Si riprovo Voglio sentire un'altra idea Grazie Ho una pozione di lentezza Teoricamente Le pozioni hanno funzionato Non sto più girando Grazie Lion Forse era la lava Secondo me era la lava Non lo so Forse sono state le pozioni Non lo so Guardate Guardate schiacciata Aspetta Le ha tirate le incudini Aspetta Ma no Mi avete schiacciato Secondo me Si è mangiata le incudini Ah E quindi E forse Sarò nell'agitazione Della lava Penso di essermi mangiata Anche quelle Sinceramente Non sono sicurissima Riproviamo con la medicina buona Ecco Basta Te ne do tre Due Grazie E tre Ok Tu sei stato il più cattivo Steph Quindi mettiti una mano Nella coscienza Non ce l'ha ragione Ha ragione Giusto Eh vabbè Però sei stato buono prima Quindi secondo me Ci sta anche per compensare Eh sì Allora io ne do Una Due Però devi lavorare Sulla personalità Forse devo essere Meno schiacciato La prossima volta Sì anche Va bene Grazie Vedo della terra È un verme della terra Ok Ok Oh Ma Chi è? Io non vedo niente Eh no Non si nota niente Vedo neanche io Vedo solo della terra Sì 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 Forse tipo C'è ancora il vento E quindi sembra che Però Certo 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 No ma Secondo me c'è qualcuno di invisibile Tipo con il mantello di Harry Potter Non esistono queste cose Non c'è nessuno invisibile qui E allora chi ha parlato? Chi era? Eh Nessuno Come? Vado a investigare Ma noi sentiamo una voce qui Vado a investigare Mi armo però È nella vostra testa la voce User left your channel User joined your channel Ho sbagliato Eh che Sì Ho sbagliato Vado a investigare Vai Allora Ok Allora io qua sono Vedendo da qui Ok Si vede benissimo Che c'è qua Non lo vedo più No non lo vedo più neanche io Ma è sparito Ma non c'è niente Stranissimo Eh lo rivedo È di qua È sparito È sparito Oh è una magia strana Eh è lì in alto Ma chi sei? Non c'è nessuno qui Ma sei timido dai Ti puoi fidare di noi No orla È diventato un amico suo Che Mamma mia Ora lo puoi spiare Vattene tutti Così la freghiamo Io mi nascondo Ma nascondiamoci Aspetta aspetta Mi nascondo Sta scavando Eccola 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 L'abbiamo trovata Eccola Eccola Lo sapevo Aiuto Mi scavano Mi scavano Mi scavano Aiuto Ecco perché non voleva Ah sì Ho capito Ma quindi Ha paura Ha paura di essere scavato Ma ha paura di questo oggetto Quindi se lo vedesse fluttuare così Sarebbe un incubo per lei Venga qui Ma non terrorizzatelo Non terrorizzatelo Povero Inseguitela Una e due Fere È troppo bellino Guarda come si siede Una, due e tre È troppo carino E poi siete stati tutti cattivi Quindi ci vuole qualcuno Che lo conforti Povera terra Dimmi A quanti punti sono io Allora Tu sei a sette Quindi se gli do i due va a sette Ok Due perché Penso che sia il voto giusto Per la tua esibizione Non sono stato minimamente influenzato Da nulla Sì Io detesto i pesci Sono nemici della terra Potessi gliele toglierei Eh ma ormai gliele dati Non posso più E puzzi pure Aia Per avere un po' di Quello è vero Un po' di puzza Si sente Dovresti cambiare Un pesce Ha ragione Il pesce fresco solo il venerdì Sono pronto Sono pronto Mi raccomando non sbirciate Perché mi dà fastidio Chi mi guarda Lo vedo il pesce Ah È bruttissimo Oh mio dio Ma come è bruttissimo Come è bruttissimo Salve Salve Oh mio dio Salve Oh mamma Come state Salve È un uomo banana Che cos'è Allora Io sono l'uomo più alto del mondo Ok Ok Quello che voi vedete A livello estetico È semplicemente un fulmine Che mi ha pigliato Perché sono troppo alto Quindi se sono un po' così brutto E purtroppo capitano ste sfighe È un parafulmine umano Sì Sono un parafulmine umano Esatto Però ormai è una resistenza ottima Quindi non c'è problema Diciamo che sono state disavventure passate In ogni caso Sono qui per chiedervi una mano Perché io ho un problema gigantesco Praticamente Dato che sono l'uomo più alto del mondo Non riesco a fare le cose più semplici di Minecraft Perché Ad esempio Ad esempio Non riesco ad ammazzare un maiale Perché sono troppo alto Non riesco a colpirlo Perché mi stanno i piedi E se provi a schiacciarlo Eh no Perché comunque sono magro Non funziona Credo solo Dei piedi troppo piccoli Ah ecco sì Sì sono molto molto magro L'unica cosa che però so fare Che è molto utile È mangiare le foglie Però non ne posso più Di mangiare sempre Queste dannate foglie degli alberi Quindi Se mi potesse dare una mano Magari Mettermi qualche maiale Sopra le alberi Io stavo cercando di aiutarla Ok Però Però è un pesce Eh Ho difficoltà a mia volta Capisce Non so I pesci Abbiamo notato I pesci hanno qualche problema Non ho provato a comprare delle scarpe Per schiacciare i maiali Delle scarpe per schiacciare i maiali Ma mi scusi Ma lei che problemi sta niente È una cosa cattiva Le ho messo una torta sugli alberi Perché ammazzarli sugli alberi è bello Grazie Grazie Lei è molto gentile Ah finalmente posso mangiare qualcosa Ho la soluzione al suo problema Oh mio Dio Sì Guarda Adesso Sono una nuvola temporalesca Guarda Ecco Era vicino Aspetta Ok Si deve avvicinare No 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 Devi venire proprio addosso a me Perché le cadono proprio addosso Più giù Più giù Più giù Tipo così Sei altissimo Sì 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 Ci siamo Ci siamo Ok Ma Che Ma Ma dove è finito Aspettate forse è meglio se la smetto di lanciargli i fulmini Mi sa Ma che cosa Che ha esagerato Mi sa pure a me Guarda È diventato un pesce allino grasso Guarda Sono troppo basso Senta Ma come Adesso Non avrà più i problemi che aveva prima Sì ma ora ne ho altri No Quelle squisite torte lì sopra gli alberi non posso mangiarle Eh Si sta sempre a lamentare però Eh vabbè ma una via di mezzo signorina No 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 Allora nella vita ci si deve accontentare di quello che sia Lei prima vedeva sopra gli alberi Adesso vede sotto Ora guardo le platte Bravo Vado in giro a guardarmi gli insetti I funghi I funghi Sarà il primo a vedere i diamanti E l'erba che cresce Ma che bel fiore Io non avevo mai visto un fiore del genere Vedi è contento È bellissimo Lo lasciamo stare Beh picchiare i maiali Secondo me Beh picchiare i maiali è una cosa grossa Secondo me i maiali se lo mangiano Però non diciamoglielo Così è felice Ma ragazzi è pieno di cose bellissime nel mondo Eh te l'abbiamo detto Te l'abbiamo detto Sai cosa sarebbe il suo nemico mortale Sì Un buco Un buco Eh sì perché se cade in un buco Non può più salire fuori Aiuto Ma povera Eh Aiuto Eh è la fine Mi liberi la prego No no Arriveder Ok 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 Perché è colpa mia Almeno vivrò con tre pozioni insieme a me Io voglio prima il voto di Fede Perché ogni volta lei è Non lo so Non ho ancora deciso È la cattiva appunto Cioè sei stato un po' strano e inquietante Quindi non lo so Ma per te è tutto strano e inquietante No sei sempre tu strano e inquietante Ma non è vero Perché gli altri non lo dico mai Lo dico solo a te È vero Eh ditemi che non è vero Io questa volta sono pronta con il mio voto Ok Dai allora vanna Io ci penso E da un voto anche molto Uno Due E tre Non permetterlo Non permetterlo No 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 Lo dice solo perché poi vince lui Deve votare Ma dai io te ne volevo già dare due Adesso che faccio Devi votare con il suo pensiero Che fa No non voglio Ogni volta mi dai uno Me l'hai dato anche nel video di Lion uno Cioè Beh c'è una via di mezzo tra uno e tre Io gli volevo dare due infatti Eh ma può andar bene Con due vince lo stesso Esatto Come esatto Sì Allora io avevo già in mente di dargliene due L'ho anche detto poco fa Quindi cioè L'importante è che non hai avuto il punteggio massimo Esatto No quello no Non sono meritato Però ho avuto la mia prima vittoria A quanti video siamo? Mi sa da otto Ed è la prima volta che vinco Sì infatti Ah è il punto al tuo momento Era l'unico a non aver mai vinto Tieni Io non ve lo dicevo mai Perché poi mi prendevate di mira Non mi avreste mai fatto vincere in tutta la serie Quindi ero sempre zitto zitto E vi ho fregati Adesso a me frega più nulla Posso andarmene Mollo la serie Arrivederci Sì sì Io non sono sicura Sì Sì o non ci provate Beh ragazzi Se non ci si iscrivetevi Lasciateci un like Questa è una buona volta Che vedete il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima